hola 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 da max deiber fronzo registrazione estemporanea con carb che fortunatamente è andato a mangiare e si è andato a mangiare caro ecco ci ha fatto lo scherzo così poteva entrare nella nostra registrazione carb vero che anche tutti si è installato world of warcraft e stai giocando con noi no perché lo grazie questa qua era la migliore spiegazione possibile allora sono con noi oltre che con noi plurale maiestatis perché carbone anche lo calcolo il signor super bus è il signor giollaccio in più se vedete nella chat c'è anche ikimoto che scrive perché è stronzo quindi ci sta sentendo ma purtroppo per un motivo per l'altro non può parlare ora e quando quanti soldi hai signor signor come come ti chiami jolly 4k me ne presti mille no è il fatto è dimmi 3k 3k pochi va bene allora come vedete al mio livello sono livello 50 perché in questo non mi ricordo neanche a che livello era lo scorso video tipo al 20 al 30 una cosa di questo tipo qua comunque il senso è in questo cazzo di gioco si cresce veramente troppo velocemente come livello anche le skill tipo erbalismo alchemisk ecco super bus che ci dice cheater tra l'altro vediamo 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 target ignora report spam wisper mutue note come cazzo si invite ok perfetto e non ti posso cazzo vediamo un attimino ikimoto gigabus ad friend super bus eccolo qua adesso posso metterti in lista e vedere come cazzo funziona allora il fatto qual è si cresce decisamente molto velocemente questo qua è il mio gear attuale fa abbastanza cagare perché logicamente non è che posso tipo avere chissà che cosa però questo qua è notabile questo qua è una cazzo di staffa che la persona può prendersi votando con il sistema di voti di questo server che è un po cheat però chi se ne frega fatto sta che comunque anche senza farlo ogni giorno mi sono arrivati tipo non so 60 80 punti per il fatto che è natale quindi mi sono comprato sta cazzo di staffa non costa niente è un po blamer ma non me ne frega un cazzo allora io adesso sto facendo questa missione qua che è questa qui la quale presuppone il fatto che io devo andare in giro a spaccare i culi a un sacco di gente anche questa bisogna che spacchi i culi questo che sarà allora cosa mi sono reso conto che dato che siamo dei livelli più disparati perché se io guardo qua ci sono il super bus che livello 40 ikimoto che livello 36 jolly che livello 70 allora chiaramente siamo una te io sono al 50 siamo un pochetto separati livello quindi cosa faccio adesso all'erno i miei talents torwa pathfinder speak ad un goro crater boh vabbè solo per farti felice però è praticamente mi metto una spec da dps perché effettivamente fare leader che siamo così separati sui giù non ha molto senso quindi andiamo dalla troia dice buongiorno vorrei allenare i miei talent se ti costa un dollaro boh vabbè tra l'altro ho spensale il 7 capite io non apro questa schermata da sette livelli allora ok chiuso cosa devo fare balance per sparare la gente ok il ferrall è quello delle forme si ferrall non ce ne frega niente io voglio sparare con le spell perché sono forte sì io so che ho p ma allora starlight vrat metto cinque punti perché mi sembra sensato improved moonfire da mangia in critical da si beh questo qua è direi ottimo ma la cost della moonfire star fire star fall vrati l'intaccio mana cost beh sembra abbastanza forte non ho neanche letto questo in credi critica sta recendo vrat star file nuri scegli in touch spell del 2 per cento quasi quasi prendo anche questo e questo che cos'è in crisi il damage è veramente forte range del balance spell e fairy ability questo non ce ne frega niente torsa intangling root del 25 per cento il damage them by your threats bla 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 io lo sto facendo con voi perché sono tipo le prime volte che io metto mano a questa cosa duration of your moonfire rejuvenation spell forte periodi o il non periodic spell ev 33 per cento to grace you with a blessing of nature in crisi o spell casting che figata no questa la voglio cazzo quanti ne abbiamo ancora 26 pushback suffered from blablabla boh questo qua è più per pvp penso critical strike damage bonus del 20 per cento 40 60 100 per cento non ha senso questa cosa 100 per cento ok poi cosa abbiamo qui enemy target is warmed by insects decreasing their chance to eat e causing 144 damage over ba sembra carino spell power 4 per cento via total intellect forte questo qua da due no da uno veramente e questo qua è da di più da in barbara e critica stelle star fa spassi dai chi se ne frega io c'è street by all speller di giusto il tec in tabello damage damba your star ancora c'è va bene increase damage a caso regenerate mana bello questo no questo lo voglio e basta anche se non serve un cazzo questo qua dopo lo vediamo questo qua cos'è alzo increase the chance target with bla 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 questo qua non ce le fotte un cazzo shape shift into monkey in form while in this form a quello ti serve di brutto al simma che cosa significa allora ti trasformi dimmi 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 è una forma che ti permette di aumentare i danni da col spalle vabbè io lo prendo sulla fiducia e Sì, c'è tipo quando combatti e stare sempre in quella forma Ok Quindi così Poi queste non posso ancora Munkin form Aura also has affected to gain haste Affected target to gain 1% haste Ma scusa, sembra una cacata No, però vabbè, molto più forte di quello che sembra E questo che cos'è? Attacks done to you while in munkin form 5 to case you to gain your friends Increase your damage Questo va in berserker praticamente Starfall spell prende un 4% Del bonus damage Insomma, tipo altri effetti sgravatissimi Li mettiamo tutti quanti Tanto questo qua del tifone Ne ha solamente uno E infatti lo mettiamo qui Bene, ho messo tutti i miei talenti Che più alla cazzo non si può Adesso Andiamo nella nostra cosa del balance E ci mettiamo qui sotto Tutte quante le cose Possibili, immaginabili Barkskin è quella là che ti permette di bla Insect swarm la mettiamo Che ci sta molto simpatica La monkey in form la mettiamo qua Che ci sembra giusto Naturus grasp Un minuto cooldown Non ci interessa Perché tanto dobbiamo solamente fare pwe Il fairy fire Chi se ne frega La moonfire è già a livello 8 Starfire Starfire Thorns Tifone Summon The dust Blah 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 Knocking them Days in them 20 secondi cooldown Porca puttana Va bene dai Facciamo finta che ci va bene così Ora possiamo ritornare a spaccare i culi E vediamo se effettivamente C'è una differenza notabile In tutto quanto quello che noi facciamo Allora 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 Giusto? Giusto Potresti Potrei Potrebbi Scroll Andiamo non su warrior Non su warlock Ma su rogue Ma su priced Ma quanti cazzo posso farne? Che schifo Per tutte le classiche Mage Multishot A qualcuno serve il glyph of multishot? Per l'hunter? No eh? Che palle Oh glyph dell'insect swarm Tra l'altro mi aumenta anche di uno Fantastico Ah tra l'altro te avevi detto Che ti serviva l'hirtruth No? Cos'è che ti serviva? Ah sì l'hirtruth Adesso guardo Ah che è lo stesso spell Che l'altra volta Tipo non riuscivo a fare Allora Cosa dice questo? Increase il danno Della tua insect swarm Del 30% Ma Vabbè Chi se ne frega Dai allora lo facciamo Bing Benissimo Allora Ah cazzo Devo anche tornare indietro Per imparare tutte le nuove spell Vabbè indifferente Facciamolo adesso dai Ci scusate sto avanti indietro Che figo Monkey in form Buongiorno sono un critapollo Che bello cazzo Beh come faccio a decidere la mia forma Scusa Cioè la decide lui automaticamente Ma va Scusa In alto Cioè in alto Nella barra Sì Io ho Sopra le tue spell Sì No ma vedo che c'è la monkey in form Eh Eh però se io la clicco Si trasforma automaticamente in critapollo Eh è quello li ha la monkey in form Eh e quindi vuol dire che io non mi trasformerò mai in alberello Eh è lei ha l'alberello Sì lo so Ma quindi lo decide lui tra virgolette Che tipo di Se fai il ramo eal puoi trasformarti in alberello Allora com'è che si fa tra l'altro Slash B Non spellbook Ma O P Come cazzo si fa K L Vaffanculo Dov'è che sono le mie spell U J U No Aiuto Dove si mettono i glif P Pop P Io sto premendo tutto il pulsante nella mia tastiera Eccolo qua Glyphs Ho aperto anche la mappa Allora Cosa devo mettere qui Dov'è il glif Dov'è il glif Dov'è il glif Eccolo qui Bene adesso dovrò abusare di sta cosa dell'insect swarm Anche se non ho idea di come cazzo funzioni Bing Già che ci siamo Andiamo a Imparare altri glifi se si può E a vedere effettivamente le cose che servono Buss Se ce le abbiamo Cosa faccio? Te le invio per posta Ci vediamo a thunder bluff Buss Sto parlando con te Buss Dimmi Scusa è un ottimo Ecco Le tue earthroot Te le invio per posta Ci vediamo a thunder bluff Si 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 per posta Per posta per posta Per posta per lo shami Sul druido eh Si 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 Earthroot Vediamo un po' se ce le abbiamo Bruiseweed Ah already non Quindi questa qua No la voglio cercare io No dovrei averla in teoria Non so bene Ma questo qua no Earth of the wild Earthroot 5 A chi hai detto? Quindi a meg A gigabus Send mail Gigabus Earthroot E siamo qui E ti mando anche questo Poi ti mando anche questo Poi ti mando anche questo Ti mando tutto il charpame possibile Sappilo No questa qua è sul bound purtroppo Ti mando No cazzo non è possibile mandarti le cose Vabbè pazienza Quanto charpame che ho Vediamo 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 Cosa cazzo devo fare? Mi sono perso un attimo Ma si andare dalla mia insegnante di italiano Per vedere se posso scrivere gli aggettivi Oltre che i pronomi Tu cosa stai? Ecco Tu cosa cazzo stai facendo Jolly Battleground Sto prendendo tante di quelle pizze Che tu macchi e macchi Sì anche sì Posso immaginare perché non sei a livello 80 Però vai Battleground Sto facendo Arnold però Sì posso immaginare Sono a 2000 Sì però prendi una capricciosa Una quattro stagioni Una marghenia Ecco Cliff of Evocation Ratheus Defense Do il mio score Meglio la score della score Scorn Scorn Vediamo the inscription La scroll of stamina Si fa con il Jadefire Inc Puttana miseria Ho bisogno di piante Ho bisogno di piante Hai capito? Io ho capito Adesso ti dico anche quali piante ho bisogno Va bene? Perché io devo fare il Jadefire Inc Oddio che cazzo è questo? Del Mage Dove cazzo è? Adesso te lo dico Jadefire Inc Ecco bisogno della Emerald Pigment Che si prende con la Fade Leaf Gold Thorn Cad Gars Whisker Quindi sono tutte piante? Si Sono queste qua Queste quattro nomi Sono i nomi di quattro piante Che io ti ho detto Le troverò prima o poi Tranquilli Ti ringrazio molto Perché altrimenti Vedete tipo Io non posso fare l'inchiostro Se Bus non mi prende La piante del diablo Ecco Se Bus non mi prende le piante Perché questo qua È Warcraft Insomma Anche di Alchemy Sono abbastanza indietro A dire il vero Perché sono solo a 186 Però di inscription Sono ancora più indietro Quindi direi che posso anche Smettere di farmi scrupoli Giusto? Giusto Primo Orgrimmar Tra l'altro Era Under Attack Cioè Non si può Questo server è veramente Di un caotico infinito Si expo brutalmente Però Come si dice C'è veramente Tantissima gente Che rompe il cazzo È pieno di ali Pieni di orda Tutte quante le città Sono popolate Sembra Da questo punto di vista Molto più simile all'offy Che non altro E io non ho mai giocato all'offy Nel frattempo Questo piccolo viaggio Vi è offerto Dalla Tauromachia Airlines Dove Che figata Cioè guardate Le scie delle pietruzze Del Del bastone Che lasciano la scia Perché noi stiamo andando avanti Capito? Sono questi dettagli Che mi fanno sborrare Di un gioco Ah Verdi Vallate Mi ricordo i tempi Di quando ero a basso livello Tipo l'altro ieri Perché in questo cazzo Di server Si expo Troppo velocemente Ah Però non ci sono autocompletanti Questa è una cosa positiva Riguardo al server Un bug notabile Quale potrebbe essere Signor Signor Giolli Mi dica Mi dica I battleground Sono sempre sbianciati Ecco I battleground Vabbè Finché sei a livello 70 Esatto Mentre Buse Un bug Secondo te Quale potrebbe essere? Ho beccato delle quest Che Cioè Ci sono degli NPC Che Dovrebbero essere Tipo Non Cattivi In realtà Sono cattivi Ah si Tipo Quei là Del druido Che dice Vai e parla Con lo spirito E lo spirito Comincia a saccagnarti Di botte Ma no Mi scusi Io volevo solo Parla E tipo Ti spacca la faccia Carbancos E' caduto In un silenzio A sé Come si dice Penso si è andata a mangiare O qualcosa del genere Beh Ci sono Ecco Perché sei così silenzioso Non è da te Non romperò le palle In un video Che succede? Perché sto guardando Le nuove cose della smagica Che ho aggiornato Ah che forte Ah si Ho tolto via i libri Le spell Le cose Bene Non è mai fatto Comunque Ah ok Grazie Senza chiedermelo Ti voglio molto bene Chissà tra l'altro Se questo funziona Alchemy Take the Distress Bacon Ferran's Carway Ma questi quasi Non lo faccio Questo qua Mi da per il cazzo No infatti Decline Via Cazzo ho dimenticato Di mettere In saccoccia Queste cose Pazienza Si ringrazia tra l'altro Il signor Jolly Che con la sua Abilità da Tailorer Che vuol dire Faccio i ricami Della nonnina Mi ha fatto Tutte quante Queste belle borsette Che mi prendono Veramente Tanto Tanto spazio 14 12 12 12 12 Se si pensate L'altra volta Ero tipo A 8 Quindi è bello Non vedo l'ora Che lui arrivi A livello alto In maniera tale Che lui mi faccia La satchel Da inscriptioner Da 32 Spazi O sposti O pazzi In maniera tale Da non avere più problemi Con questi cazzo Di inchiostri Che si mischiano Insieme a metà Della merda Che ho Potrei anche farmi Quella dell'alchimista Vediamo Ok Qua siamo entrati In un deserto Però dato che Anche nel deserto Cioè Nel Grand Canyon Nevica Perché siamo Natale Vedato che è Natale Nevica Questo qua Non ha senso Sembra tipo Che ti stiano Tirando addosso Grani di sale grosso Ma va bene A noi Dimmi Dimmi Ecco Siamo per entrare All'interno Di Ferralas Che bello Sto posto Cazzo Contesto E territori Quindi qua In teoria Potrebbero arrivare Dei fottuti ali A rompere i coglioni Anche se non è contested Arrivano quindi Anche se non è contested Arrivano quindi Sì 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 Infatti C'è l'altra volta Dove cazzo Orgrimare Continuamente sotto attacco Tipo Non è possibile Avere un attimo di pace Ma anche Noi Orda Siamo così Rompipalle Guarda Arrivo l'80 Te lo dico Ok Va bene Grazie Ed eccoci a campo Mohaccia Ti ho messo a notare Che sto in battleground Con i verdini Sente Full equip Che mi sciotta Ok Tanto qui passa gente Qui sopra Delle cose Dove cazzo ero A farmare Ah qua ero Ritorniamo Non sto in tabbia Dei verdini Faccio male cane Solo che se mi toccano Esplodo E vabbè Normale Chi è che ha preso nota Da quant'è che sta registrando Secondo me Già troppo Chissà Chissà Ok Ci vediamo Tra 30 secondi Interessante Ok Sì Solamente 19 minuti Quindi direi che il tempo c'è Per dire stronzate Per aggiornare Non abbiamo ancora fatto la gilda Perché non abbiamo ancora fatto la gilda Prego Jolly Sì Dai Dici perché siamo senza Allora devi dire nell'ordine A perché non facciamo più le instance E quindi ci manca il tank B perché siamo senza armature Di ferro E C perché non abbiamo fatto la gilda Dai Posso riassumere con una sola parola Sì TARF Testa di cazzo Quel coglione è andato in vacanza E si era messo a fare il black smitter Quello che aveva la lista di gilda Che aveva preso anche 4 stronzi Che firmassero a caso E anche che cosa E Ed era il tank C'è well crafting Sì Puoi fare duro no Sì Io comunque Porca puttana Mi ha detto che era un warrior Mi ha chargiato Mi ha dato un colpo in faccia E mi ha dato 7000 di vita Perché sono esploso Io sto per arrivare al posto dove farmavo Prima per vedere se c'è una sostanziale differenza Nei danni O se devo tipo ogni volta fare 560 O se devo fare 16 rotazioni prima di uccidere qualunque cosa Allora Facciamo finta che mi sposto queste spell qua E che mi metto questa insect swarm qui Andiamo a trovare un cazzo di piccione di merda Piccione di merda Piccione di merda Eccolo piccione di merda Buongiorno Abbiamo vinto Abbiamo vinto Già un po' Allora io ho concluso Ho questa partita con 3 kill Quindi Vedetevi che ho detto I verdini qualche cosa fanno Che ha 7 morti e 53 assist Sembra esserci un discreto miglioramento delle tappe Però brucia anche molto più mana Fatto mille di honor Non sembra male Ah infatti Pam No no il cazzo Lo brucio molto più velocemente Potrei fare anche una rotazione solo E poi tipo picchiare la mano Vediamo se è vera questa cosa qua Allora Starfire No il cazzo Prima questo E poi questo Madonna che rumore di insetti terribile E poi il coso E adesso ti posso picchiare la mano Perché tanto i due dot addosso Eeeh madonna Che male che fa l'insect swarm Ragazzi Dimmi Qualcuno di voi Si Ricorda dove Non si spendono gli honor point Per prenderti E ti fighi Eeeh no Cioè c'era uno stronzo da cui andavi per questo Ma non me lo ricordo Madonna che male che faccio In una rotazione Ah dici ador Dici quello dei I punti ABG Ador Grimmar Eeeh aspetta Ador Grimmar Devi andare Eeeh Sopra la piazza principale C'è un punto Però C'è difficile a spiegare Diciamo Non mi ero neanche messo Il Mark of the Wild Quella dove Io a piazza principale Sopra quella della banca Sì quella lì Tra l'altro Facendo l'alchimista Mi si è sbloccata Questa passiva qui Vediamo se riesco a trovarla Al primo colpo Ovviamente no Questa In pratica Ogni pozione che io mi sbevacchio Ha il doppio della durata Perché Sono io Perché Dato che conosco Gli alchimisti So come Tenermi nello stomaco Le schifezze più a lungo Quindi Passa la bamba Passata Madonna santa Che cazzo di male L'ho fatto L'ho shottato Ma si va Si mette a crit Il crit a pollo Porca puttana Il crit magico Ma cazzo Gli ho fatto uno starfire Gli è andata giù Tutta la vita In un colpo Madonna santa Che male Eh sono nella piazza principale Adesso Te la finì tutta nel culo Strozo Mi sa che Mi sa che è crashato Eh mi sa anche a me Ah no Cazzo È solamente un grosso lagone Ok Ha avuto un attimo Di incertezza Allora Eh vaffanculo Stupido Allì di merda Ah già pensavo Che stessi Madonna mia Che lag Si a volte Questi momenti Di incertezza Dai Manda la starfire Dai Mandala moonfire Dai Metti l'insex swarm Dai Allora Ti dico Ora Grimmar Devi andare Sali a sinistra E davanti a dove C'è il ponte Per andare a prendere L'aeroplanino Ok È tipo una stanza Con tutte le robe Che puoi prendere Con punti Dei battleground Allora Sbidiamo L'aeroplanino Sta No La banca La capra Sbanca Proprio così Sto davanti la banca Bene Finito di andare Dovrà Devo andare Valle of the honor Si mi persico No Perché non l'ho fatto 26 livelli fa Questa cosa del pvp Ma non meglio Oddio Ma no Ti ho fatto dall'altra parte Ma Allora il punto Che più rendi persico Non è una delle vallee È nella Nella vallee of the strength Solo che è sopra Non è 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 Allora salgo sopra adesso Allora aspetta Andiamo solo a curare il messo Ma veramente non Mi permesso No Altro lago L'ascensore l'hanno aggiunto In cata Tra l'altro Altro trick Ho questa cintura del cazzo Che mi cura Ok Poi c'è Questo Punte Di Merda Esatto Che ti porta Dove c'è Giusto La baracca Con tutti I standardi A questa Cosa ancora Alli di merda Fuori dalle palle Orde military ranks Giuro che da Orde Non mi prenderei La briga Di andare a rompere I coglioni Agli ali Nei territori Degli ali C'è già abbastanza Da fare Ecco Grazie Allora Legacy Weapon Posso prendere Oh Le posso prendere Ma questa Questa Proprio Altri Dicimila Comunque Fai molto più male Con la spec Da dps Chissà perché Chissà perché Sarà perché Fai il dps Con la spec Da dps Cioè Lo dice il nome stesso Perché poi non si possono insultare Cioè Almeno Poterli insultare Ok Io ho finito Allora No No Nel senso Dato che sono Orda Non li puoi mandare A fare in culo Questo penso Che stesse dicendo Ah Com'è Vedete Questa è Solidarietà Taro Orda Io metto Le spelle a lui E lui non mette Le spelle a me Grazie No vabbè Non so che cazzo Di classe era Probabilmente Paladino Comunque gli ho messo Tipo due Buff Sì infatti Però era In dps Boh Non lo so Non me ne fa Tutti un cazzo L'importante È avergli Dato i baffini In maniera tale Che fosse Senza Barbina Uccidetemi Vediamo se il 4x4 No Codo 4x4 No Dai Uno spazio dove salire Codo 4x4 Eccolo Ecco Mamma mia ragazzi Devo comprarmelo Quando sono grande Altro che motorino E ricordiamo a jolly Quanti anni abbiamo Noi altri Vax è ormai Over 50 Sì vabbè Sti cazzi Allora tarf cos'è Tipo Sta accanto a Hector Salamanca Suonare il campanello Chi è questo Blue delf paladin Ciao blue delf paladin Io c'ho una cavalcatura più fica della tua Strozzo Super bus qua Bas Bas Dimmi Sta prendendo un sacco di legnate Bas Non lo puoi vedere Sono oggetti da Di livello 60 E voi quelli da gli 80 Io so che sto prendendo legnate Sto uccidendo ma Perché sono un paio di livelli Sopra il mio Dario Ciao 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 Torroncino della mamma Io sto andando a consegnare Asta quest Solo per far vedere Quanto si avanza Di livello Consegnando una quest Adesso Io sono Al 50 Tipo Provate a mettere I primi minuti Di questo video Per vedere A quanto ero Di questa barra E ho ucciso 12 mob Nel frattempo 12 e basta Perché mi mancavano Solamente 12 12 frammentini E Adesso che consegno Guardate che cazzo Di salto che si fa Un attimo Trovo un cazzo E sono morto ancora Dopodiché Devo andare a vedere Il video Di Carbancos Che mi fa lo scherzone Aerebor Testa di cazzo Senti com'è triste Il jolly Perché Buongiorno Sì avrei da consegnare Una spell Bling Natural Materials Sì sono questi Grazie Boom Sono salito i livelli Sono già a metà Della barra Del livello dopo Capite come si sale Di livello Così si sale Di livello In un pomeriggio In un pomeriggio Ti fai 7 livelli A random Adesso finisco Questa cosa qua E vi faccio vedere Il bonus track Di quanti livelli Avrò Semplicemente Facendo quelle due missioni Quindi a tra poco E con i saluti finali E ci sentiamo in realtà Tra un'oretta Che avrò finito Di fare tutte quante Le spell Insomma Ciao Quattro in bar No invece mi sa Che il video Lo finirò così Perché adesso Sono alle Twin Colossals E allora L'anno scorso Che sono andato La dei Twin Colossals C'era una troia Che mi teleportava Sopra Il Twin Colossals E dopodiché Mi sganciavo Lassopra E l'altra volta Non ero riuscito Sganciarmi in tempo Col Paracadute Vediamo se quest'anno Riesco a farlo E' un po' un rituale Di ogni stagione Di World of Warcraft Quando farò la terza Se farò la terza Ma non penso Insomma Mi sarò anche rotto I coglioni In sto gioco Non è vero E Arriverò Sempre da questi Cazzo di Twin Colossals Per vedere Se riesco a sganciarmi Col Paracadute Vediamo un po' Twin Colossals Twin Colossals Twin Colossals 1 E Twin Colossals 2 Se io guardo il buco Del culo di Tarf Penso che ci stiano Entrambi Stronzo Ecco Andiamo un po' Twin Colossals Dov'è la zoccola Della Twin Colossals Mi pare che fosse In quella Sinistra Venendo da sud E Ma non ci credo Dai Cosa Ma perché Sponano i mob Che mi ammazza Dai Eh perché sei Stronzo Tipo Dov'è la troia O non può essere Che non ci sia la troia Che ti tippa La voglio la troia Che ti tippa Dai finita No Non c'è la Non c'è quella spell Non c'è quella quest Ah no Eccola cazzo Mi stavo quasi spaventando Buongiorno To the top Sì grazie Ecco E siamo sopra Oh Grazie E adesso Qua dovrei prendere Lo strozzo Che mi vende Il paracaduto Giusto Colossal Parachute Grazie Allora com'è Riduce la tua Fall speed Per 10 second Bene Operiamo i saluti Ringraziamo tutte le persone Che ci hanno tenuto compagnia Quindi Ciao Iki Motors Puoi salutare Dalla 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 Chatti Iki Motors Addio Ciao Superbussola Ciao Coglione Ciao Carbunclass Carbunclass Ok E ciao Giollaccio Considerato Che null'altro È rimasto A dire Da Max Dei Berro Paracadute Fronzo Adios A todos E E E Non si vede Il paracadute 6 4 3 2 1 Oh Si Cazzo Mamma Sono riuscito ad usare un po' la cagumpe Che culo Bene Cazzo Che successful Tra l'altro Non ero neanche crit a pollo Ecco perché facevo pochi danni Cocco 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 Sono un barba Gianni Oddio è bellissimo Sono ciccione Sono un uccellone ciccione Un uccellone ciccione Bellissimo Ho fatto tipo la missione In un attimo Perché ho trovato un paladino Ci siamo messi a macellare qualunque cosa Comunque il crit a pollo è fenomenale Adesso che ho imparato sta nuova forma Non la posso veramente più abbandonare Oh Sono le viozò Cosa Cosa C'è Cristo Che cazzo mi ha dato questo tipo Wow 13 spirit 13 stamina Cazzo E' bella sta roba Vedi C'è Tu trovi Stronzi Che non hai mai visto Che ti regalano cose Non so Giogli esprimiti Sì Eh Tipo Io Stavo passeggiando Ho trovato sto tizio Che mi ha regalato Una tunica super potente Per il mio livello A random Buono Buongiorno Dovrei consegnare delle missioni Tipo due Sì grazie Vorrei questi Ma grazie infinite Vorrei Cioè Boh vabbè 52 Io ho fatto due livelli Facendo tre missioni Due livelli e mezzo Cioè tipo Succido altri tre mob Salgo di nuovo Di livello E sono senza missioni No il cazzo Devo andare a un gros crater Quindi Quindi tocca prendere il bus Via Verso l'infinito E oltre